Ghostbusters Minaccia Glaciale è ora nei cinema, ma avete notato tutti gli easter egg riferiti alla saga? Venite con me e vi li farò vedere io. Prima di tutto, sigla! Eccoci qui ragazzi, Ghostbusters Minaccia Glaciale è ora al cinema e devo dire che mi è piaciuto molto più del primo film di questa saga, ovvero Legacy. Perché soprattutto si sente l'atmosfera di questa New York infestata, torniamo appunto tra i palazzi, tra i grattacieli della Grande Mela, dove avvengono gli inseguimenti più avvincenti del film. A differenza delle altre pellicole, qui troviamo meno fantasmi, ma il pericolo è imminente e maggiore di quelle precedenti, non sono fantasmi messi lì tanto per. A parte il film, che a me è piaciuto tantissimo, non sono qui per farvi una recensione, ma per farvi scoprire, se non l'avete già notati, i diversi easter egg che sono nella pellicola. Partiamo ovviamente dal nostro amato Slimer, che non poteva mancare in quanto simbolo ormai degli acchiappafantasmi e di tutto ciò che rappresentano, perché la sua melma verde è un simbolo veramente, veramente cult. Un altro riferimento molto carino ed emozionante è quello dell'anziana signora che va nel negozio di antiguariato, direi, uno degli acchiappafantasmi storici della prima trilogia. La signora molto emozionata e triste è lì per consegnare le cose vecchie del marito defunto e quando alla domanda come si chiamava suo marito risponde Harold è riferimento ovviamente all'attore che interpreta Egon Spengler, ovvero Harold Ramis, defunto nel 2014. Un piccolo cenno o una piccola citazione al povero Ramis che ci ha lasciato qualche anno fa ma che vive e continua a vivere nei cuori di tutti noi fan dei Ghostbusters. Ovviamente non poteva mancare uno dei momenti più iconici dei primi due film, cult, che è quello del fantasma della biblioteca. Durante le loro ricerche in Frozen Empire, in Accia Glaciale, i ragazzi entrano nella biblioteca dove troviamo nuovamente il fantasma della signora che aveva spaventato Ray nel primo film. Lo rispaventa di nuovo perché loro, fuggendo una volta trovato quello che cercavano, l'intima di fare silenzio ma poi lo attacca diventando mostruosamente brutta e cerca di aggredirlo. Lui scappa in modo molto comico, ecco riferimento ovviamente alla scena cult che tutti ricordiamo dei primi film. Altro riferimento al primo film è quello del cappello a colino che Peter, il personaggio di Bill Murray, mette in testa a Vince, posseduto da guardia porte se non sbaglio, il guardia chiavi, il mastro chiavi, nel primo film per cercare di capire se era posseduto. Qui lo rivediamo metterlo in testa al personaggio di Gumail Ninjami, abbiamo visto anche in Eternal, ovvero Nadine che qui interpreta questo personaggio che cerca di controllare il fuoco perché come la leggenda vuole, Garraca era l'unico modo per controllare il fuoco e lui è un manipolatore, un mastro di fuoco che qui riontra, ritorna il mastro di fuoco, mastro di chiavi, riferimento ai film vecchi con il mastro di fuoco. Chi non ricorda l'uomino di Marshmello che distrugge i palazzi di New York stile Godzilla, controllato da Godzer? Ecco qui torna, l'uomino di Marshmello ma sono dei mini Marshmello, dei mini Puff controllati da Garraca, che cercano in qualche modo di mettere il bastone tra le ruote ai nostri acchiappafantasmi e ovviamente come per Slimer i mini Puff o comunque l'uomino di Marshmello è un simbolo tipico dei nostri acchiappafantasmi che non poteva assolutamente mancare in un film dedicato ai Ghostbusters. C'è un altro momento cult nel film che mi ha fatto veramente sorridere, mi ha ricordato di tutto il tempo, la sigla in questo film non c'è, c'è riarrangiata la classica nostra sigla di Acchiappafantasmi, Who You Gonna Call? in un momento importante per il personaggio interpretato da Paul Rudd che cerca di trovare il suo posto tra la famiglia e il lavoro da Acchiappafantasmi, la compagna, la ragazza Kelly, è in un momento di dubbio e cerca di capire cosa dovrà fare con la figlia Fibbi che non vuole darle ascolto e vuole fare quello che vuole. Qui Gary per cercare di tirarle su il morale canta e intona il motivetto degli Acchiappafantasmi, riarrangiato ovviamente in italiano e cerca di tirarle su il morale con il motivetto veramente divertente, una scena che ricordo con moltissimo piacere. I primi Acchiappafantasmi appunto erano quattro, se vi ricordate, con la scomparsa di Egon Spengler sono rimasti in tre e il quarto è stato preso da Janine. Questo è un riferimento diretto alla serie animata perché non vediamo mai Janine nei vecchi film con la tuta e Acchiappafantasmi. Qui ha un bracciale con il raggio per catturare i fantasmi e dà una mano alla squadra per cercare di combattere Garraca e vedere Janine con la tuta e Acchiappafantasmi è veramente divertito perché appunto è un riferimento alla serie animata. Come è un riferimento alla serie animata la sidecar, la bicicletta che vediamo tirare fuori da Ray per iniziare le ricerche insieme a Fibbi, in quanto quello viene direttamente anche lì dalla serie animata e la moto, diciamo la moto sidecar che vediamo nel film, proprio per quello. Infine non poteva mancare Walter Peck che qui ritroviamo sindaco addirittura di New York e cerca in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote ai nostri eroi. Come al solito dovrà ricredersi e capire l'importanza degli Acchiappafantasmi e l'aiuto che hanno dato alla città per iniziare ad accoglierli appunto a New York ed accettare la loro presenza. Qualcosa mi dice che non tutto andrà per il meglio in quanto molto probabilmente questa sarà una trilogia che attendiamo con ansia il terzo film perché come sappiamo la scena post credit che vediamo è quella dei mini puff che rubano un tir e fuggono in autostrada. Una scena divertente perché fanno delle diverse gag ma che ti ha strappato un sorriso mettendo le basi per un terzo capitolo. Sono molto curioso, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io sinceramente Ghostbusters, Minaccia, Glaciale l'ho amato molto più del primo Legacy come già detto quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate del film e se vorreste vedere un'altra trilogia questa volta magari soltanto con i nuovi Acchiappafantasmi perché manca una cosa molto importante in questo film che non è arrivata nel capitolo iniziale ovvero il passaggio di consegne che è una cosa molto importante per dare finalmente importanza a questi nuovi Ghostbusters per amarli in tutto e per tutto perché è vero che il film è gradevole e piacevole ma è anche vero che ci sono troppi riferimenti al passato che magari in molti hanno amato ma che ti distolgono dalla trama e dai protagonisti principali che sono i nuovi Acchiappafantasmi fatemi sapere voi cosa ne pensate io vi saluto e vi ringrazio da Valerio Perrone e Ciaccazione lasciate un commento, mettete un mi piace e seguiteci su Instagram, Facebook e Youtube grazie a tutti